casa rende mister Viscardi ben trovato mister buonasera a tutti buonasera ehm una gara davvero vibrante oggi quella con lo scalea finisce due a due c'è rammarico per questo risultato perché avete condotto la gara poi vi siete fatti riprendere dallo scalea e riuscite subito a pareggiare quello penso che sia stato un momento importante per non perdere l'intera posto in palio oggi ma innanzitutto c'è da fare anche i complimenti allo scalea che ha disputato una una buonissima gara eh ma anche noi penso che ci siamo fatti trovare pronti era una partita complicata perché entrambe necessitiamo di punti per raggiungere il prima possibile l'obiettivo sicuramente sull'1-0 a fine primo tempo cioè ma inizio secondo tempo abbiamo avuto due occasioni per andare sotto 2-0 poi abbiamo preso due gol nell'arco di due minuti e poi siamo stati bravi a recuperare subito con Cruz però tutto sommato è un punto guadagnato su un campo difficile dobbiamo subito pensare a mercoledì nel recupero con la Paolana sì ecco eh prima il tecnico appunto della Paolana De Domenico diceva il Rende non ha ecco questa foga di dover fare risultato nel senso che loro hanno maggiore necessità rispetto a voi però è chiaro che la la classifica in questo momento vi fa stare tranquilli però le carte in tavola o possono cambiare da un momento all'altro? No ma noi tranquilli lo siamo quando raggiungiamo 38 punti quindi non penso sia sia giusta all'affermazione che noi cioè siamo più sereni di loro noi dove mercoledì dobbiamo andare a Paolo e cercare di di ottenere punti perché noi ci dobbiamo salvare il prima possibile poi eh sicuramente ci troviamo in una posizione di classifica diversa rispetto a loro però non ci dimentichiamo che in questo momento siamo a cinque punti dai play out la classifica è cortissima e quindi dobbiamo per forza cercare di di portare i punti a casa perché noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo poi sicuramente sarà una partita difficile un derby eh i derby non sono mai semplici da giocare però eh ripeto noi domani già ci alleniamo martedì ci alleniamo prepariamo nel migliore dei modi la partita e vogliamo andare a Paola a cercare di di vincere la gara eh ti parlo proprio onestamente quindi eh sappiamo che non sarà facile perché loro hanno necessità di punti ma noi allo stesso tempo necessitiamo di punti perché ci vogliamo salvare il prima possibile. Sì eh avete questa impellenza avete anche diciamo sulla carta avversari in qualche modo diciamo abbordabili poi è chiaro avrete anche un gioioso Ionica che stiamo vedendo che è ripresa prima di affrontare due squadre come Sambiase e Cittanova eh quindi sarà lì sarà un attimino più complicato tornando al discorso appunto che giustamente come dice lei bisogna a stare tranquilli si sta solo quando si raggiunge quella quota. No ma guarda Emilio io ti dico che questo è un campionato difficile cioè quindi soprattutto nel genere di ritorno non c'è tattica tecnica cioè non contano solamente le motivazioni questo io oggi ho detto ai ragazzi quindi tutte le partite vanno affrontate con il piglio giusto non c'è Sambiase Cittanova o Vigor o Brancaleone Bocale di turno cioè le partite vanno affrontate tutte nel migliore dei modi per cercare di fare punti eh e raggiungere gli obiettivi che la società si è previstata eh il gioiosa Ionica che noi affronteremo domenica è una buonissima squadra con un grandissimo allenatore che io conosco ha dei giocatori importanti eh stessa cosa vale per quanto riguarda la Paolana eh e anche oggi lo scalea devo essere onesto è una squadra che secondo me merita più punti di quelli che ha una squadra che ci ha fatto giocare pochissimo noi solitamente riusciamo sempre a ad avere il maggiore palleggio rispetto agli avversari perché noi siamo una squadra che che deve per forza obbligatoriamente giocare a calcio eh però ripeto oggi è andata così eh siamo contenti di di quello che abbiamo fatto devo fare i complimenti ai ragazzi sottolineiamo che oggi l'1-0 lo fa un 2006 quindi pochissime squadre in eccellenza lanciano tanti giovani come 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 fa il RAND sì e ovviamente anche noi avevamo delle essenze importanti Petrone che domenica ha fatto gol oggi non c'era eh c'era qualche ragazzo che magari era un po' acciaccato però abbiamo stretto i denti abbiamo cercato di di dare battaglia dal primo all'ultimo minuto e mercoledì faremo la stessa cosa a Paolo ecco eh chiaramente gioco forza dovrete fare questo mh recupero e quindi c'è questa gara in più infrasettimanale ehm ecco la gestione delle energie comunque eh sarà complicato per per te mister in in questo momento del campionato ma sicuramente sarà sarà complicato perché poi noi non abbiamo una una rosa lunghissima però è un derby e quindi penso che le energie i ragazzi devono trovarle loro spontaneamente eh le motivazioni faranno la differenza ripeto eh noi andremo lì a cercare di di fare il nostro gioco sapendo che affronteremo un avversario difficile che in settimana ha preso altri due giocatori eh che comunque sono dei giocatori abbastanza importanti per la categoria per l'eccellenza però mh c'è a noi fondamentalmente non cambia nulla quello che che bisogna fare noi lo sappiamo eh da domani ci mettiamo subito al lavoro ci concentriamo su su questo derby che vogliamo vincere eh e poi poi si vedrà poi dopo dopo mercoledì penseremo al gioiosa Ionica che ribadisco è un'altra squadra forte secondo me che merita più punti di quelli che ha eh e ci apprestiamo ad affrontare un mese importante in questo in questo torneo. Grazie Viscardi. Grazie a voi. Buona serata e alla prossima.